Continuate ad avanzare! Attiva subito il visore notturno! Bene! Tenete lì sotto a pressione! Non sono più! Non sono più! Allora! 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 Ridirezioniamo il fuoco Libero Con la loro mitraillatrice ai fianchi La loro mitraillatrice ai fianchi La loro mitraillatrice a Jackson Libero Attenzione, truppe nemiche in arrivo verso il carro Raggiungetelo subito Libero Ricevuto, ci stiamo lavorando Libero Signore, è pieno di nemici là fuori Sta zitto, è pieno di fermi Ricevuto, fuoco di soppressione Attenzione, truppe nemici Secondo piano Contatto nemico Al secondo piano Cambio e il d'oro Cambio e il doro Cambio e lo어 Cambio e lo oteco Un luogo Compio e lo oteco Sodani nemici Si ruolano in tutto oberto Cambio e lo oteco Un luogo Decolo e mezzo Sponio e lo oteco Devo ricaricare Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 muovo a terra qualcuno attenzione, RGC piano inferiore stecchico arreda attasù lezzo, gli attenti il cannone, muovi ok, ci siamo Jackson, fai saltare attenzione, al terzo piano attenzione, al terzo piano Jackson, indiciamo la nostra posizione a supporto aereo piazza e il trasmettitore IR guidali qui, chiudo attenzione, 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 attenzione hanno riempito l'intero edificio ci serve il supporto aereo segnale rilevato identità confermata arriviamo a tutta velocità da nord-est attendete ehi due ne è rimasto un po' qualcuno laggiù negativo li abbiamo presi tutti ricevuto bersagli distrutti ce ne andiamo da qui in buon carruppo ragazzi chiudo comando aria di atterraggio sicura mandate ingegneri è ora di far muovere il carro ricevuto ingegneri in arrivo buon lavoro chiudo squadra radunarsi davanti al carro muoversi ascoltate dobbiamo portare il carro immediatamente via da qui staremo in assetto difessivo qui qui e qui nel fango e prenderemo tempo finché ingegneri faranno partire il carro chiaro avviamo nicolai lo porteremo nel nostro rifugio ad amburgo tempo di arrivo stimato 700 ore grazie ascale grazie a tutti e grazie a tutti ben